Questa è la mia lezione di 30 di verticolo 30, aggiornata, quindi diventa 2020. Corre l'anno 2020 ed i negozi sono chiusi 40 su 60, il contagio in giro. Ediamo China, sono senza, è Conte, è il primo presidente scemo. La gente quasi non si vede più, si esce con la maschera antigas, la pura ti controlla e senza autocertifica ti becca, ti multa e sono cassi. C'è lo smart working tramite internet e il Parlamento ogni giorno fa un decreto, non si va più in metropolitano. Ogni regione ha la dogana, però tutti a imprecare e porca puttà. E poi c'era la C che era vicina, andava tutto bene settimane fa. Quando si era in tempo, adesso no, ed oltre i contro c'erano i pro, perciò... Tanta nostalgia negli anni 90, quando non c'erano gli hashtag, non le vanno, no, eh. Era difficile, ma possibile, non c'era il coronavirus, si conosceva solo la SARS. C'era la mucca pazza e c'era l'AIDS, c'era chi lavorava nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, la musica, c'era la musica, gli articoli 31. La musica, c'era 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 la musica,